E lì che si ha la sensazione che qualcosa sia cambiato, la presenza massiccia di militari, non c'è la solita fila ai musei come il Louvre, la Tour Eiffel è chiusa a tempo indeterminato. Molta tensione, tensione e paura di tutta la gente, francesi, turisti, tutto il mondo. Devo dire che abbiamo confermato proprio per non farci bloccare dalla paura, perché abbiamo deciso di reagire. Come siamo arrivati, devo dire che in tante zone di Parigi non si sente quello che è successo, non si vede. La paura è più personale, nel senso che ci si guarda un po' di più intorno. Però, salvo ecco, ieri al Museo del Louvre facendo la fila si avvertiva paura, perché si vedeva che c'erano tanti puliziotti, tanta agitazione. Ma Parigi cerca la sua normalità e lo fa preparandosi al Natale. Spuntano infatti i primi addobbi messi proprio in queste ore, un modo per cercare di andare avanti. Malgrado questo, continua la processione nei luoghi della strage. E siamo venuti a testimoniare il nostro dolore con i bimbi, anche per far capire ai bimbi cosa è successo, perché per i bimbi sembra quasi un gioco, le bombe, invece per fargli vedere il dolore di una città ferita dentro.